Ok, allora io ho preparato una presentazione e poi avrei molto piacere di dare via a un piccolo dibattito, domande e risposte, perché secondo me è sia bello portare un contributo organizzato che anche vedere un pochettino come si sviluppa una possibile discussione. Non spaventatevi subito con le prime tre slide, perché io vorrei presentare un pochettino anche quello che sono state le mie paure all'inizio e quello che poi mi ha spinto a fare determinate scelte. Quindi per spiegare tutto al meglio ho dovuto creare un quadro che era quello che mi teneva, diciamo, sveglio la notte quando è nata la prima bambina. Quindi non spaventatevi, cercherò con tutta la presentazione di dare un quadro più positivo che negativo, però ci sono un po' di cose che mi preoccupano sensibilmente all'inizio. Allora, per iniziare adesso vi condivido il mio schermo e vediamo se... Allora, un secondo solo che vi dovrebbe aprirsi la possibilità di condividere lo schermo e do l'autorizzazione. Ok, dovrebbe essere condividi. Eccoci qua. Ecco fatto. Qui la presentazione. La vedete tutti? Ok, allora, Collasso è un libro molto famoso di Jared Diamond ed è un libro che parla di quello che parlava già quando io avevo 14 anni, 15 anni, quindi decenni, due decenni fa quasi. di quello che sarebbe successo al pianeta in mancanza di un'azione concreta sui problemi ambientali ed è quello che viviamo sostanzialmente adesso dal punto di vista del clima e della biodiversità. Quando uno inquadra il problema, la domanda che si fa sempre è io cosa ci posso fare? Cioè, in che modo io posso essere proattivo e utile a un problema gigantesco e globale? e la sensazione è sempre quella di sentirsi soli, di sentire che la cosa è impossibile e sostanzialmente rinunciare a fare qualsiasi azione perché tanto il problema è troppo grande. però qualcosa si può fare, immagino che Mastroieni prima di me abbia provato a sottolineare questo fatto e ora ci provo anch'io e questa presentazione l'ho fatta un pochettino su di me, quindi ognuno poi potrebbe fare la sua presentazione con le sue cose, quindi non è detto che non vuole essere un manuale o un farmi bello, è quello che io mi sono trovato a sentire e a mettere in pratica. Allora, ok, soprattutto è sbagliato o esagerato parlare di collasso ambientale? Alcune persone pensano di sì, Purtroppo però la situazione del clima sul nostro pianeta è abbastanza critica. Qui c'è un fantastico sito che fa vedere il clima del 2100 nelle nostre città. Io ho preso Milano e fa vedere come in mancanza di un'azione climatica concreta e volta a risolvere i problemi che abbiamo, Milano si troverà nel 2100 a vivere il clima dell'Egitto e questo può sembrare impossibile. Allora io sono andato indietro e dal livello medio della temperatura si vede come nel 1800 c'era il clima, c'era in Sicilia il clima che adesso c'è a Milano e questa cosa dovrebbe farci capire che non è così impossibile che nel 2100 ci sarà il clima dell'Egitto perché se in cento anni dove le emissioni non erano alte come quelle di adesso c'è già stato un cambiamento così radicale nel clima della città di Milano si può solo immaginare che questa cosa sia possibile. Oltretutto non c'è solo questo problema ma come è più facile e tangibile accorgersi intorno a noi qualsiasi prato di quando eravamo bambini ma soprattutto quando era bambino qualcuno con qualche anno più di me qualsiasi prato è diventato una villetta, un capannone o un centro commerciale. Questa cosa c'entra col riscaldamento locale delle varie zone in cui abitiamo perché il cemento, al contrario del prato o di un albero, assorbe calore e quindi crea quelle che si chiamano isole di calore. Oltretutto il cemento è un altro problema che è impermeabile alla pioggia quindi quando adesso arrivano queste super piogge piogge eccezionali vengono chiamate ma non sono più così eccezionali perché ogni volta che piove è praticamente una pioggia eccezionale quindi potremmo chiamarle piogge forti normali ci sono degli allagamenti questo perché non perché i tombini sono sporchi o forse i tombini sono anche sporchi ma soprattutto le piogge sono estreme e il territorio è incredibilmente cementificato quindi questo porta l'acqua a non essere assorbita localmente nel terreno incanalarsi da qualche parte e creare effetto piscina in questo caso ho preso un'immagine famosa di una ferrovia ad alta velocità quindi qualcosa che potremmo anche collegare alla transizione ecologica ma è progettata senza pensare che in condizione di pioggia estrema sarebbe dei fiumi interi di acqua sarebbero incanalati dentro questo avvallamento e quindi questa è la conseguenza di questa pioggia estrema nel territorio di Valencia per farci capire quanto non siamo pronti a piogge estreme eccetera ci sono delle mappe della protezione civile come questa dove si va a vedere come l'Italia come l'Irlanda e alcuni altri paesi europei come la Polonia eccetera non hanno un piano di adattamento al cambiamento climatico quindi per noi il cambiamento climatico nella scelta delle infrastrutture nella scelta per la protezione civile eccetera è un mistero e questa cosa rende qualsiasi operazione estremamente difficile da pianificare e spesso ci fa ci coglie impreparati ora potete immaginare che c'è un altro problema che conosciamo bene in Italia il fatto che la mia generazione è una generazione che non fa praticamente figli e come noi alcune generazioni prima della mia e sicuramente questo è un trend che ormai è innescato e questa cosa porterà anche a livello sociale di welfare eccetera il paese a soffrire consideri gollenti ultimissima cosa negativa che vorrei dire è che il livello di istruzione degli italiani è generalmente molto basso ultimamente è uscita questa intervista di Eurobarometro che ha fatto delle domande basilari sul rapporto di uomini e scienza agli italiani e noi siamo risultati tra i più ignoranti di tutta l'Europa tant'è che un italiano su tre crede che gli uomini abbiano convissuto quei dinosauri come i flea stones e questa cosa dovrebbe farci un pochettino spaventare perché noi siamo abbastanza vecchiotti senza piani di adattamento al cambiamento climatico ma quello che apriamo la finestra continuiamo a vedere che c'è una ruspa che sta scavando delle fondamenta per qualche nuovo capannone e questa cosa dovrebbe a mio avviso realmente preoccuparci e questo sono io è Spongebob ma sono io che penso quando è nata la mia prima bambina ha tutti i problemi questa cosa veramente non mi faceva dormire la notte quindi tutta una serie di contesti che dice io cosa ci posso fare perché ma soprattutto io ne parlavo magari con i miei colleghi in ufficio con con chiunque ed ero come dire un pochettino solo in questa mi sentivo almeno solo nelle mie preoccupazioni cioè magari uno diceva ma perché Murigno non ha fatto tenuto in panchina Ibrahimovic perché ha fatto le preoccupazioni erano altre e questa cosa dico cavolo io cioè sono una persona incredibilmente fortunata e perché io devo essere spaventato e quelli indubbiamente più sfortunati di me sono meno preoccupati e questa cosa vi assicuro che mi ha dato anche dei problemi proprio di sicurezza a me perché era come se io avessi un problema e quindi nella mia ricerca delle soluzioni all'inizio mi sono sentito incredibilmente solo però poi ho scoperto che non era così comunque un po' di cose che ho provato a fare e la cosa che sono più orgoglioso è la ristrutturazione della mia casa perché è un esempio concreto di una cosa che bene o male più o meno ha toccato a tutti nella vita di poter sistemare lo spazio in cui vive io ripeto sono una persona fortunata e quindi ho avuto la possibilità di disporre di una casa di ristrutturare mia e soprattutto nel momento che abbiamo deciso di ristrutturarla è saltato fuori l'ecobonus quindi questa cosa è stata una specie di ternalotto allora ho deciso di sfruttare l'ecobonus e vedete qui tra le varie cose c'è un fantastico sistema ad energia rinnovabile per l'asciugatura dei panni basato sul sole e sul vento però questa è la ristrutturazione complessiva soprattutto abbiamo messo un bel cappotto alla casa e abbiamo cambiato il sistema di riscaldamento che prima era a kerosene con una puzza che potete immaginare è terrificante e poi abbiamo installato quella che si chiama pompa di calore che è un sistema molto moderno di cui parlerò dopo perché è una cosa che magari può interessare a qualcuno che deve cambiare la caldaia eccetera ora visto che il problema è causato dalle emissioni il problema del clima è principalmente causato dalle emissioni di CO2 qui vi volevo far vedere una slide che avevo già fatto vedere Antonella magari se la ricorda come vengono cosa causano cosa causa le emissioni di anidride carbonica nella vita di un ragazzo di 27 anni io lavoravo per l'università per il Politecnico di Milano e facevo spesso delle conferenze all'estero quindi prendevo tanti aerei e i voli aerei potete vedere qui in grigio erano una fetta molto importante delle mie emissioni di CO2 oltretutto nel weekend facevo centinaia di chilometri in macchina per andare ad arrampicare in montagna e mangiavo tantissima carne perché facendo tanto sport mi piaceva integrare le proteine con proprio dei baby stecconi e vedete queste fette sono impressionantemente grosse rispetto a quelle che sono la casa e i consumi 20 tonnellate di anidride carbonica emesse ogni anno sono 20.000 chili di un gas quindi è tantissimo in volume è una cosa spaventosa e praticamente se tutta l'umanità emettesse 20 tonnellate di CO2 ogni anno gli accordi di Parigi noi li avremmo già sforati da un pezzo quindi probabilmente adesso il pianeta Terra sarebbe una palla di fuoco tipo Marte quindi non è qualcosa di di etico da portare avanti per una persona ora 2020 pandemia quindi un po' tutti a casa sicuramente non si prendono aerei nel 2020 ma anche si gira poco in macchina e poi nel frattempo la macchina è diventata elettrica e consumi un pochettino sì perché con l'acquisto in più per tirarsi sul morale durante la pandemia non può mancare io sono appassionato di bici quindi è una continua compravendita di biciclette 6 tonnellate 6 tonnellate è comunque tanto se voi vedete le medie di un italiano medio la banca mondiale dice 5 tonnellate poi non tiene conto del fatto che noi compriamo i prodotti dalla Cina tipicamente quindi le emissioni dei nostri prodotti le scarichiamo sui poveri cinesi quindi un italiano medio in realtà ne mette circa 10 di tonnellate però è comunque considerevole ora nel 2022 io pianifico di emetterne 3 grazie al fatto che ho la casa nuova e una bella generazione locale di energia coi pannelli solari e oltretutto sono un appassionato articoltore quindi anche il cibo che mangio è un cibo che viene da una filiera almeno d'estate molto controllata perché viene dal mio lavoro di orticoltore e questa cosa può essere assolutamente a basse emissioni ora come dice Antonella queste non sono delle scelte solamente di un pazzo che vuole annichilire la propria esistenza riducendo le proprie emissioni ma sono anche tutte cose che poi in realtà hanno avuto un riscontro positivo banalmente la macchina elettrica va meglio di una macchina normale costa meno a livello di manutenzione costa meno a livello di consumi la casa ristrutturata è stata impegnativa all'inizio ma adesso è una soddisfazione ed è anche più vivibile non prendere aeree in continuazione io non so se voi siete abituati a fare dei viaggi di lavoro dall'altra parte del mondo ma è una cosa che distrugge il fisico perché uno per una settimana che magari dall'altra parte del mondo almeno io soffrivo il jet lag quindi non dormivo per una settimana appena cominciavo ad abituarmi di avere il nuovo ritmo circadiano ritornavo a casa e non dormivo per un'altra settimana settimana di un anno sono 52 se uno fa questa operazione già 3-4 volte non dorme per più del 10% del tempo e questa cosa aveva degli effetti terribili sulla mia salute quindi abbandonare questa abitudine è sicuramente una cosa estremamente salutare e benefica per i viaggi ci sono dei viaggi locali che ti portano molto più frequentemente e molto più facilmente ed economicamente in posti meravigliosi come non mancano intorno a noi ora sempre sono ingegnere vi voglio far vedere due cose molto semplici della transizione ecologica che tutti dicono la transizione ecologica deve essere una transizione culturale verissimo però senza una transizione tecnologica la transizione ecologica non avviene perché nessuno con la transizione culturale almeno i grandi numeri immagino una persona con un minimo di inabilità fisica non può abbandonare l'auto o non può abbandonare che so l'ascensore o cose del genere quindi è giusto che ci siano degli agi alla vita e degli ausili di comodità alla vita per il 90% delle persone ed è bene che questi ausili alla vita come l'automobile non siano impattanti per il futuro di chi viene e camminerà sulla terra nei prossimi anni quindi un esempio e qui se ne sentono di bufale spaventose l'auto elettrica il male del pianeta sembra l'auto elettrica adesso vi faccio vedere un grafico tutti sono spaventati dalle batterie dicono ah le batterie inquinano eccetera eccetera guardate in azzurro ci sono la produzione delle batterie quanto impatta rispetto alla produzione totale dell'auto vedete la differenza tra un'auto normale a benzino a diesel a sinistra e un'auto elettrica la differenza è circa del 30% in più quindi un'auto elettrica sulla produzione emette circa il 30% in più ma poi ci sono i consumi che in un mix energetico quindi se la carichiamo con una la corrente degli italiani media ok senza considerare che uno magari ha i pannelli solari sul tetto però questa cosa comporta una riduzione del 60% rispetto alle emissioni di un diesel o di un benzino questa cosa vuol dire è una cosa spaventosa pensate la difficoltà di chiedere a due persone su tre di non usare più l'auto secondo me è impossibile immaginarsi da un giorno con l'altro che due persone su tre non utilizzino l'auto almeno io non credo che questa cosa possa essere possibile è successo magari durante la pandemia dove c'era la polizia con le sirene che ti inseguiva se prendevi la macchina però sicuramente non è una cosa che noi ci auguriamo però grazie semplicemente alla trasformazione del motore da benzina a elettrico come per il clima come se togliessimo dalla strada due auto su tre questa cosa a mio avviso va ricordata e va spiegata perché l'Europa porterà l'abbandono dei motori a combustione entro il 2035 ma prima avviene questa cosa meglio è quindi a parte anche la qualità dell'aria eccetera che non si avrebbero più gas di scarico però anche per il clima questa cosa è ottima ora un'altra cosa molto bella che la tecnologia ha portato adesso secondo me è il riscaldamento elettrico e sappiamo che un cammino moderno ha una buona efficienza quindi non il cammino quello ottocentesco dove si arrostiscono le salsicce ma un bel cammino col vetro chiuso ha un'efficienza del 90% oltretutto se c'è uno ha un boschetto vicino a casa prende due ranni fa qualcosa e fa una bel fucarello che fa sempre la sua buona figura però riscaldare tutto l'anno la casa con la legna è ovviamente una cosa che quando lo facevano tutti gli europei in Europa non c'erano più i boschi quindi 200 anni fa non c'erano i boschi e questa cosa ovviamente non la possiamo più fare ora qualsiasi persona di una certa età dice ah io ho messo la caldaia a condensazione e lì dice ah sono contentissimo è super efficiente bene guadagna un 10% di efficienza rispetto alla caldaia normale o rispetto a un caminetto questa cosa purtroppo ce l'hanno messa in testa con le pubblicità dell'ENI di 20 anni fa di quando ero bambino io me le ricordo sulle riviste c'era scritto il metano ti dà una mano e il metano ti dà una mano no il metano è terrificante è un gas climalterante fortissimo e non c'è un singolo tubo o una singola caldaia che non perda metano in atmosfera questa cosa si vede chiaramente da delle mappe adesso mi viene in mente che ve l'avrei potuta mettere su una mappa la pianura padana è invasa dal metano degli allevamenti e dei riscaldamenti come pochi altri posti al mondo una cosa terribile per fortuna e qui noi italiani siamo molto all'avanguardia anche nella produzione e nelle installazioni questo oggeggi che si chiamano pompe di calore praticamente questi questi cosi recuperano calore dall'aria grazie a una pompettina che fa girare un gas refrigerante il contrario di un frigorifero e questa cosa qui ha un'efficienza di 500% cioè per ogni kilowatt elettrico messo dentro in in una pompa di calore questa ne tira fuori 5 termici quindi anche se tutta l'elettricità fosse fatta col gas comunque non utilizzerebbe solo una piccola percentuale queste sono cose che bisogna dire perché se no le persone pensano che la tecnologia sia semplicemente un danno qualcosa da da rifiutare invece sono cose drammaticamente utili e l'Europa per fortuna sta normando che le nuove installazioni di riscaldamenti e di auto sfruttino queste due tecnologie che per fortuna sono davvero ottime ora vi faccio vedere io sono un po' un secchione da questo punto di vista e vi faccio vedere i propri miei consumi giornalieri della mia casa in questi giorni e vedete si accende la pompa di calore si riaccende durante il giorno poi i picchettini sono tipo accendo il fornello per il bollitore il forno eccetera qui c'è la carica dell'auto per un pezzettino il ancora il riscaldamento abito a 700 metri quindi il riscaldamento parte ogni tanto e poi c'è la cena con delle belle accensioni del forno e la lavastuglie ora grazie ai pannelli fotovoltaici gran parte di questi consumi possono essere creati cioè soddisfatti dall'energia caduta gratis sopra il tetto di casa vedete il è l'energia che è arrivata sul tetto di casa catturata dai pannelli solari e il viola è quello che una batteria attaccata ai pannelli solari regala nel corso della giornata quando manca l'energia del fotovoltaico questa cosa immaginate viola più verde è avvenuta in maniera totalmente gratuita e totalmente donata dall'energia del sole secondo me è una cosa molto bella perché permette noi persone di essere in parte indipendenti dalla rete e quindi dalle missioni e da un sacco di posizionamento geopolitico delle nostre necessità nel mondo ora tuttavia questa è una delle foto più spaventose che ci si può immaginare sono dei palazzi di Hong Kong ok immaginate la mia casetta in campagna da quattro persone e ora vedete questi il messaggio è che il clima non ci salveremo c'è un acidi troppo con le villette ok con la mia casetta cioè noi dobbiamo pensare a livello globale quindi se la mia casetta aiuta me a sentire che è possibile mi deve anche ricordare che devo guardare un bel palazzone di Milano e pensare lì deve avvenire il cambiamento e questa cosa è la cosa che deve motivarci ad avere un inquadramento globale del problema perché se non c'è il palazzone di Milano e se non c'è il palazzone di Hong Kong a fare le stesse belle cose che io ho fatto a casa mia la cosa di casa mia è un vezzo e questa cosa deve essere chiara quindi ci vuole un po' di realismo da questo punto di vista e il mio bel pannellino solare dimostra che è possibile prendere l'energia dal sole ma il mio tetto è il mio tetto il palazzone di Hong Kong sotto il tetto ci sono e ci abitano centomila persone quindi bisogna considerare bene che cos'è realmente una una sorgente grossa di emissioni come una megalopoli ora per fortuna ci sono delle concertazioni planetarie per risolvere i problemi del clima e non solo la mia casetta o pochi di noi ora sappiamo che le emissioni sono sempre cresciute e oggi abbiamo già un grado e due di riscaldamento globale se seguissimo le politiche le leggi fatte oggi a livello globale noi nel 2100 ovvero quando la mia secondogenita avrà 80 anni ci saranno più 2,6 gradi i ghiacciai sarebbero già sciolti tutti da circa 50 anni le barriere coralline sarebbero state spazzate via ma per quelle non c'è purtroppo nessuna fiducia e i mari sarebbero una decina di metri più alti rispetto a quella di oggi quindi tutte le città costiere del mondo sarebbero esodite da qualche parte io ho questo scenario e pensare che le leggi attuali invitano questo scenario ad accadere lo trovo abbastanza spaventoso ora per fortuna ci sono altri due scenari in giallo sono le promesse dei politici in verde sono le cose che l'andamento delle missioni quindi il rosso è come sono sempre andate sempre cresciute in verde come dovrebbero andare se vogliamo rispettare l'accordo di Parigi in questi giorni avete sentito parlare sicuramente della Coppa 26 a Glasgow hanno fatto delle nuove promesse quindi niente più del giallo ma un pochettino più come dire spinte che potrebbero portare un aumento di più di 1.9 gradi nel 2100 più 1.9 vuol dire sempre zero ghiacciai zero barriere coralline mari più alte tutte le cose ma in maniera meno cruenta rispetto a più 2.6 quindi bene ma non benissimo ora chi è responsabile lo sappiamo i grandi emettitori storicamente sono stati gli Stati Uniti in media parte l'Europa soprattutto la Germania e l'Inghilterra la Russia e la Cina questi sono stati i grandi emettitori nel tempo noi europei tutto sommato sono stati anche bravi non abbiamo idea di quanto siano riusciti a emettere gli Stati Uniti cioè solo l'esercito degli Stati Uniti ha emesso più dell'Europa storicamente quindi è un problema quando con Trump uscirono dagli accordi di Parigi lì la battaglia per il clima sembrava completamente persa perché senza di loro è impossibile cambiare rotta perché loro sono i grandi emettitori ora la Cina è principalmente la grande emettitrice ma è anche grande produttrice di prodotti per il resto del mondo quindi tramite le nostre scelte noi siamo in grado molto di influenzare la sua politica e tramite delle lotte di confine di tassazione di confine siamo anche in grado di chiederle di abbassare l'impronta carbonica dei loro prodotti facendogli tu de recente buoni banalmente ora sto arrivando alla fine non è un problema solo di geografia ma è anche un problema di inequità generazionale e di ricchezza i ricchissimi hanno contribuito alle missioni in maniera drammatica e qui ho trovato un'immagine fantastica di due ricchi americani in vacanza adesso con il turismo dei pensionati americani queste persone che hanno lavorato nell'esercito lavorato nelle grandi multinazionali del petrolio eccetera ora e ce ne sono tantissimi viaggiano per il mondo tutto l'anno in maniera totalmente iniqua perché vedono le ultime bellezze rimaste del mondo mentre le bellezze naturali scompaiono e già io non non potrò non potrò vederle né perché viaggiare è una cosa tutto sommato molto impattante né perché queste cose realmente stanno sparendo quindi un altro aspetto iniquo è il fatto che le maggiori cause del maggiori cause del cambiamento climatico vengono da paesi che non non vivono le conseguenze questa mappa è totalmente l'inverso della mappa precedente vedete come i paesi poveri l'Africa soprattutto è colpita duramente dal cambiamento climatico e mentre altri paesi che l'hanno causato ne sono colpiti meno ora vi faccio vedere due due foto e sono due foto simili ma due foto drammaticamente diverse quella sotto è il Mozambico durante la gigantesca alluvione causata dall'uragano Idai nel 2019 e questa è la Germania quest'estate vi ricordate sicuramente le alluvioni in Germania ora potete immaginare come in due luoghi così diversi la ripresa del territorio avvenga in tempi drammaticamente diversi quindi un'alluvione in Mozambico vuol dire che piegare la popolazione è per praticamente per sempre perché il potere economico di ripresa è drammaticamente più basso mentre noi siamo più in grado di riprenderci dal dai disastri del clima immaginiamo anche cose come il ponte Morandi noi in un anno possiamo ricostruire un ponte causato che è crollato un ponte in mezzo a una città proviamo a farlo in Mozambico con le risorse del Mozambico questa cosa è impossibile e dovrebbe farci pensare che che dobbiamo trovare una soluzione ora mi piace ripartire dalla città una visione totalmente diversa della città di prima noi non dobbiamo lasciarci affossare da le difficoltà che questo scenario comporta perché è troppo facile e dobbiamo anzi secondo me sforzarci di creare una narrativa migliorativa del futuro partendo dalle persone e non da piccole realtà come potrebbe essere la mia perché è troppo facile giovane lavoratore benestante ma dobbiamo trovare il modo di creare un sesso di comunità volto a farcela a tutti e questa è una cosa che è più difficile ma è più pragmatica ancora perché se ce la fa uno solo il risultato è inesistente se ce la fanno in pochi il risultato è già più palpabile per questo la dimensione associativa la dimensione aggregativa dei movimenti per il clima è importante ora simbolo i ragazzi di Extinction Rebellion hanno Fridays for Future ma ce ne sono tantissimi quello sopra è il loghino della piccola associazione che ho fondato io con degli amici il cambiamento ma anche devo dire lo spazio Smara quello che fate voi con i vostri percorsi anche quello fa parte di questa dimensione del dire cavolo non siamo da soli siamo c'è una collettività di persone interessate e questa cosa è fondamentale e dimostrare che il cambiamento è qualcosa che interessa a livello comunitario è fondamentale per portarlo a diventare politica altrimenti rimane solo un vezzo di pochi ora anche manifestare e metterci la faccia come dice Antonella è una cosa importante perché se nessuno ci mette la faccia nessuno pensa che realmente qualcuno ci creda e qui siamo andati a World Economic Forum ormai due anni fa e torneremo quest'anno e volevo un'altra dimensione importante per chi fa impresa o per chi investe e credere nella transizione questo è NextEra Energy è un titolo di una società energetica verde e vedete che chi ci ha creduto nel 2018 ora ha più che raddoppiato i suoi i suoi utili e questa cosa penso da questo andamento capite che anche durante le fluttuazioni del 2020 adesso i mercati sono estremamente più irrequieti però il trend è chiaro il futuro dal punto di vista dell'energia non è nel fossile quindi oggi chi prende dei titoli di aziende estremamente legate al fossile sa che si prende un rischio mentre compra a NextEra Energy è come mettere i buoni postali come investire in buoni postali ora anche fare impresa adesso per chi ha provato a fare il bonus è più difficile trovare non è una questione di domanda è una questione di offerta mancano gli imprenditori in grado di soddisfare la richiesta di persone in grado la richiesta delle persone che vogliono fare l'eco bonus vogliono ristrutturare casa eccetera quindi credere lavorativamente nella quella che si chiama green economy è comunque una scelta volta al futuro che sicuramente sarà proficua quindi anche questo è un aspetto che bisogna ricordare e secondo me è positivo perché dice non è una richiesta una situazione di sacrificio è una richiesta anche come dire furba e questa cosa va abbracciata ora io concludo e volevo dire che bisogna fare delle cose concrete e concentrarsi su quelli che sono dei principi cardine del problema che sono legati ai combustibili fossili tanti parlano ah io sono appassionato di ambiente eccetera però poi i combustibili fossili non saltano mai fuori piantare gli alberi è bello però se non si smette quei combustibili fossili i problemi del clima non se ne vanno anzi gli investimenti sono importanti e l'aiuto reciproco è fondamentale quindi anche il volontariato quindi sbattersi e aiutare è una cosa cruciale per per dimostrare che il cambiamento è possibile chi si fa gli affari propri chi non ci crede chi eh non non realizza il cambiamento di cui abbiamo bisogno e per questo volevo dire le frasi che più non mi piacciono dobbiamo prima cambiare il nostro modello di sviluppo cosa c'è di sbagliato in questa frase qui dobbiamo prima uno parte subito mettendo un ostacolo dicendo ah io non faccio niente perché prima bisogna fare qualcos'altro o nessuno parla mai di Cina e India sono altre frasi no ah loro sono colpevoli sì ma tu e e questa cosa del mettere degli ostacoli è ovviamente un problema un'altra terribile ci meritiamo le estinzioni quella io non la sopporto ho due bambine eh che estinzione si meritano quella mi spaccare la faccia a uno che dice ti meriti l'estinzione ai miei bambini o è troppo tardi no perché non c'è limite al peggio troppo quindi qualsiasi cosa che facciamo in meglio ad oggi è meglio rispetto a non aver fatto niente siamo in troppi e lì dici cominciamo da te capito io ci sono ci voglio essere e tu no quindi siamo in troppi se tu ci sei io ci sono sei tu che stai parlando non io e e un'altra purtroppo tristemente sbagliata è bisogna partire dalle scuole no perché se partiamo ora dalle scuole sformiamo adesso la classe dirigente del domani i problemi noi li vedremo magari risolti tra 30 anni quando comunque sarà troppo tardi quindi bisogna partire dalle scuole è una frase terribile perché dice io non ho voglia di cambiare minimamente aspetto che qualche insegnante faccia la green school e spero che questa cosa migliore il problema io la trovo insopportabile bisogna rimboccarsi le maniche chi può in ogni modo e inventarsi delle scusi spesso ipocrite è qualcosa secondo me di deplorevole in un contesto come questo uno se non ha voglia di fare niente può dire io sto zitto e forse fa una figura migliore detto questo vorrei concludere con una frase di un attivista svedese che magari conoscevi quella che sta antipatica a molti perché dicono che stronzetta gretina e dice tutti sono benvenuti tutti sono necessari perché è una tipica frase da stronzetti no? no secondo me è la frase cruciale perché dice è una cosa su cui non si possono fare distingue non si può essere tu sei tu non sei abbastanza tu sei troppo piccolo tu sei troppo grande tu sei stato colpevole fino a ieri ora non puoi non puoi fare niente quindi tutti sono necessari e e c'è bisogno e tutti sono benvenuti e io vi ringrazio per per avermi ascoltato e spero di poter rispondere a qualche domanda se vi ho incuriosito su qualche tema vi ricordo che sono ingegnere quindi magari su quelli tecnici mi trovate più preparato su alcuni aspetti culturali un pochettino vi ringrazio di poter rispondere su